Siamo all'undicesima giornata di campionato di seconda categoria a girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Laurenzana dove pareggeranno con il risultato di 1 a 1. Inizia così il primo tempo ed è proprio nel primo tempo di gioco che arriva la beffa per l'Atletico Pomarico. Infatti la squadra ospite segnerà la prima rete su un'azione in fuori gioco ingiustamente non segnalata dall'arbitro. Il Pomarico subito dopo aver subito la rete si fionda nell'area avversaria per ribaltare il risultato ma il portiere del Laurenzana nega più volte il gol prima al capitano Angelo Montano su una punizione e poco più tardi su un tiro al limite dell'area di Schiavone. Nel secondo tempo il Pomarico continua ad attaccare ma senza riuscire ad andare in rete ma è proprio quando le speranze vengono meno il capocannoniere del Pomarico Walter Schiavone di testa su un cross battuto da calcio d'angolo sigla la rete del pareggio risollevando così il morale della squadra. Ma nonostante tutto la partita finirà con il risultato di 1 a 1. Dallo studio è tutto ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti.